Vensi d'amore, con passi d'io, e lei divenne la madre sua. 8 dicembre 2020. Dall'Istituto Nostra Signora delle Grazie di Inizio a Monferrato vogliamo raggiungere tutte le persone che per tradizione desiderano vivere un momento di preghiera presso la Casa della Madonna. La solennità dell'Immacolata rappresenta per la famiglia salesiana una data molto importante. È la festa di Maria ed è anche il compleanno dell'oratorio. Nel 1841 Don Bosco incontra il primo oratoriano, Bartolomeo Garelli, un ragazzo di 16 anni, orfano di padre e di madre, che si guadagna da vivere come muratore. Intrufolato in sacristia, il giovane viene destrattato dal serpefano. Don Bosco invece lo difende, facendone un suo amico. E da questa amicizia nasce l'oratorio, che prende avvio con un Ave Maria, recitato assieme dal santo dei giovani e da questo ragazzo che non sa né leggere né scrivere, ma sa fischiare. Un colpiale che porta qui il suo spirito che nell'aria e in questa casa, Don Bosco c'è, è qui con noi. Tradizione nella famiglia salesiana, che proprio in memoria di quell'incontro, ogni anno, l'8 dicembre, a mezzogiorno, si reciti un Ave Maria radunandosi in cerchio. Da qui il nome di Cerchio Mariano. Anizza Monferrato, la casa madre, si unisce in preghiera alla famiglia salesiana di tutto il mondo. Piace pensare che anche Don Bosco e Bartolomeo Garelli sono con noi per lodare Maria Immacolata con una bella Ave Maria. Ave Maria, vi salutiamo. con lo sguardo rivolto al Pioneta Terra, dono del Padre, casa incantevole di ogni uomo. Il nostro desiderio è che tutti i tuoi giovani figli abbiano una casa confortevole, non la strada, abbiano pane, lavoro, cure, sicurezza. Ottieni il dono dello Spirito Santo alla Chiesa, agli uomini di volontà costruttiva. Ave Maria, con Bartolomeo Garelli ti preghiamo per tutti i giovani che non sanno altro che fischiare. In quanti paesi mancano scuole di educatori, oppure se sovviene una missione dell'educare e manipolata da madre. Ave Maria, con Don Bosco ti affidiamo a tutti i giovani perché tu li guardi come guardavi Gesù. Ascoltali come ascoltavi Gesù e se hanno deviato riconducili a casa dove Gesù dona la libertà, insegnabilità e dà il coraggio dell'altruismo gioioso e umile. Ave Maria, sia la sede della nostra vita. Ave Maria, sia la sede della nostra vita. O se c'è l'azzurro più grande perché, non vi credo il sole che è Gesù. Bella, bella sei bellissima Maria, come il cielo bella. Bella sei bellissima, che è il mondo che sarebbe un po' con il nome. Bella, bella sei bellissima Maria, come il cielo bella, bella sei bellissima, che è il mondo che sarebbe un po' con il nome.